Sono il dottor Maurizio Leuteri, specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva, docente alla Scuola di Specializzazione di Chirurgia Plastica dell'Università Torvergata di Roma. Ho scelto di fare il chirurgo plastico perché sin da ragazzo ero affascinato dall'idea di poter modificare le forme, i volumi e l'estetica degli individui. Poter cogliere in pieno quelle che sono le aspettative di un paziente nell'ambito di un intervento di chirurgia estetica, credo che bisogna ricorrere a diverse strategie, ascoltare il paziente, far capire la tecnica chirurgica, far capire quali sono i limiti della tecnica stessa e a volte anche i limiti imposti dalla natura. Inoltre possiamo utilizzare tecniche strumentali o digitali per poter cercare di proiettare e programmare un intervento in modo tale che il paziente abbia perfettamente chiara qual è la possibilità di riuscita. Il successo di questo intervento, di un intervento in genere di chirurgia estetica, non è dato solo dall'aspetto tecnico, da come è venuto un intervento, ma quello che gratifica tantissimo me e credo un qualsiasi chirurgo plastico è di vedere come cambia la persona nel suo insieme, nel suo approccio, nella sua psicologia, nel suo modo di presentarsi, riuscire ad ottenere un successo a 360 gradi estetico e personale dell'individuo. Un po' tutta la chirurgia estetica mi affascina, però in modo particolare la chirurgia estetica del distretto facciale è quella che mi interessa di più. La possibilità di modificare quello che è non solo l'espressione estetica di un individuo, ma anche dei propri sentimenti, da una parte è un'avventura difficile, ma è quella che gratifica sicuramente di più. Uno dei casi clinici che ricordo con più piacere risale a tanti anni fa, quando un giorno si presenta a studio una bellissima ragazza su una sedia a rotelle. Questa ragazza, che in seguito ad un intervento chirurgico in neurochirurgia era rimasta sulla sedia a rotelle paralizzata, si rivolgeva al chirurgo plastico per poter aumentare il suo seno, che potrebbe sembrare quasi un paradosso, ma in realtà la delicatezza di questa donna, di questa ragazza bella, che non si arrendeva assolutamente al suo nuovo stato fisico, la quale richiedeva al chirurgo plastico comunque di migliorare il suo aspetto estetico. È una cosa che mi è sempre rimasta in mente e che ricordo sempre con tanto piacere averla potuta aiutare in una situazione così difficile. La collaborazione con Clinique mi permette quotidianamente di confrontarmi, sia dal punto di vista tecnico che umano, con tantissimi colleghi, per cui a crescere la mia esperienza, di poter vedere tantissimi pazienti, per cui poter crescere anche in questo senso. E poi, soprattutto, l'aspetto organizzativo della Clinique mi permette di dedicarmi a tutto tondo solo ed esclusivamente alle problematiche dell'intervento chirurgico in se stesso.